Ciao a tutti e bentornati sul mio canale! Oggi parliamo del tempo verbale tra passato prossimo, che è un tempo del modo indicativo. Troviamo questo tempo verbale in una narrazione al passato. Lo utilizziamo in combinazione con altri tempi verbali, sempre al passato. Il passato prossimo, l'imperfetto e il passato remoto. Per quanto ci riguarda, il passato remoto lo mettiamo tra parentesi e quindi consideriamo solamente il trapassato prossimo in una frase con l'imperfetto oppure con il passato prossimo. Per parlare di questo argomento, mi servirò della fantastica lavagna, così possiamo fare la nostra linea temporale che ci piace tanto! Sulla lavagna disegno la linea temporale, quindi noi siamo nel presente e dobbiamo parlare del passato. Il trapassato prossimo viene usato per parlare di un'azione che avviene nel passato prima di un'altra azione passata, quindi il trapassato prossimo si usa per indicare delle azioni che avvengono prima, nel passato, di azioni espresse al passato prossimo e o all'imperfetto. Ad esempio, vediamo degli esempi, se io dico ieri ho visto un film che avevo già visto un mese fa. Qual è l'azione che avviene prima temporalmente? quella espressa al trapassato prossimo, quindi che avevo già visto un mese fa. Per capire meglio la sequenza temporale delle azioni, possiamo anche invertire le due frasi, possiamo dire avevo già visto il film che ho visto ieri. vediamo un altro esempio. Lo scorso mese ho riletto un libro che avevo già letto a scuola, quindi l'azione che avviene prima nel tempo è che avevo letto a scuola ed è ovviamente espressa utilizzando il trapassato prossimo. Anche qui, per capire meglio, possiamo invertire le frasi e dire avevo già letto a scuola il libro che ho riletto lo scorso mese. Vediamo adesso un esempio con l'imperfetto al posto del passato prossimo, ma mantenendo comunque sempre il trapassato prossimo, perché sapete che l'imperfetto e il passato prossimo si scambiano in base a quello che dobbiamo dire. Se dobbiamo descrivere, utilizziamo l'imperfetto, se dobbiamo parlare di fatti, azioni, usiamo il passato prossimo. Quindi adesso vediamo un esempio con l'imperfetto e il trapassato prossimo. Ieri Giorgio era felice perché aveva vinto 50 euro al gratta e vinci. Io sto parlando di ieri. Ieri Giorgio era felice perché prima nel tempo aveva vinto 50 euro al gratta e vinci. Quindi l'azione che viene prima è quella di vincere 50 euro al gratta e vinci. Poi successivamente, a causa o grazie a questo evento, Giorgio diventa felice e quindi era felice fa riferimento ad un'azione successiva, sempre nel passato, ma successiva a quella espressa con il trapassato prossimo. Proviamo a dire la stessa cosa al presente. Quindi se io dico oggi sono felice perché ieri ho vinto 50 euro, sto parlando di un'azione a metà strada tra il presente e il passato. Quindi oggi sono felice perché ieri ho vinto 50 euro. Se invece trasporto tutta la narrazione al passato, diciamo ieri ero felice perché due giorni fa avevo vinto 50 euro. Quindi vedete che si tratta di due azioni passate non contemporanee, ma consecutive. Va bene? Quindi il trapassato prossimo si usa per esprimere delle azioni che avvengono nel passato, tempo ancora prima di azioni passate all'imperfetto, al passato prossimo o al passato remoto. Va bene? Quindi in realtà il trapassato prossimo non è un tempo verbale difficile. Dobbiamo solamente avere ben chiara in mente la successione degli eventi e concordare queste azioni temporalmente e verbalmente grazie al corretto uso dei tempi verbali. Provate a scrivere nei commenti qui sotto delle frasi utilizzando il trapassato prossimo. Mettetevi alla prova con questo tempo verbale. Spero che questo video sia abbastanza chiaro e se avete delle domande lasciatele come sempre nei commenti qui sotto. Io vi ringrazio per aver guardato questo video e se volete vedere altri video potete andare a cercare tra le playlist del mio canale e soprattutto potete iscrivervi al mio canale, se non l'avete già fatto, così da ricevere le notifiche quando ci saranno nuove lezioni da guardare. Allora vi auguro buono studio e noi ci vediamo nella prossima lezione. A presto, ciao! 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 Ciao!